Attenzione prego, gentili soci e clienti, vi informiamo che alle 15.30 i lavoratori del punto vendita canteranno tutti insieme l'Inno d'Italia. Vi invitiamo a unirvi al tolo per ritrovare un momento di unione. Insieme ce la possiamo fare. L'Italia se ne sta, perché l'omicidio si è città la testa. Dove è la vittoria che porta a Roma? Fratelli d'Italia, l'Italia se ne sta, perché l'omicidio si è città la testa. Dove è la vittoria che porta a Roma? Che si chiama a Roma, che si chiama a Roma? Di Gianciacolte, si è pronti alla morte, si è pronti alla morte, l'Italia è pronti. Gianciacolte, 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 Gianciacolte. Segui! Applausi Grazie.